salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di il guys oppure fall guys per gli amici fila detto e gli amici che troverete in questo video sono len e lara ciao ciao a tutti bene siamo ritornati in questo però mini appuntamento di questo gioco che durerà un po di vino però le vittorie saranno assicurati giusto sì 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 ma se non vinciamo è colpa del gioco mica nostra come sempre o che crea sempre problemi esatto tevis tevis dai allora che allora vado io perché sono io che seleziono vediamo facciamo questo per prima ma ma di ma di verne ma di verne sono spettacolo selezionato vadi vadi estremo è extrema non so non so cosa voglia dire però ecco mi sa che una volta che muori a ok si può essere io penso che mi aspetta per altri la vita che ti gira si gira che ti gira e che ti gira e se poi cadi da lì e gli altri non vini risponato di nuovo ok esatto modalità estrema attivata vero ma questa è una squadra e non credo credo che ognuno è per sé a quindi ok vedo che vedo quindi per tre fa per me ma fa per lei fa per me fa per ok allora e chi c'è qua potrei 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 riuscire a non morire mai potrei dice dice che c'è ma qui si arriva in cinque secondi al traguardo dove andici a no allora mi sa che siamo a squadre le top 11 siamo a squadre ciao ragazzi immobile è successo è stava fermo immobile non lo so che c'è che sono ancora fermo immobile ancora da niente non riesci a partire no sono partito allora non usciamo andiamo avanti no era proprio no ma basta ma basta che non muore ma perché scivolo così lara che fine ha fatto ok a me a squadra si purtroppo si purtroppo per voi si è squadra come molto volvo non capire è nel senso che io non so se arrivo però ci provo dai io recuperato no porca muzzo è fasciatissima come fuori per ora porca puzza no no l'ultimo no cioè siamo tutti fuori vabbè è certo cosa volevi che succedesse ma questo qua ho beccato il ruolo vabbè io adesso questo qui lo segnalo per inattività in l'alempienza ok grazie che è un cretino è un cretino cioè non ci credo che uno entra in gioco e poi sta lì fermo è andato intanto lo segnalo e niente via no se siamo già usciti adesso qua decidete voi se volete rifare o se andiamo a me rifacciamo dai facciamo riproviamo magari ci capita una gara diversa non credo però ho riscattato bei punti è sì 2600 abbastanza va bene dai e come riproviamo si frontizi azzurro cambiando da cambiando costumino ho sbloccato un nuovo colore ma che colore lei sempre con quell'acconciatura molto sfavillante io ovvio ovvio io mi toglie più il ciuffo ormai la mia skin dello squalo giallo giallogno sopporta la causa ma diciamo che la mattina ci metto tipo due tre ore per fa tutto san maradan prima poi troverà la skin blu così se la mamma che a rimagare vedo l'ora giro girandola già mi piace di più è ma io qua muoio sicuro quindi vabbè io vi sconsiglierei di prendere l'elica al centro si fa allora si metta ciccicollo di qualcuno faccia come faccio io in quello in quello delle pareti io mi metto a ciccicollo di tutti abbiamo un compagno di squadra d'amose 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 regaliamo se d'amose d'amose andata contro l'unico non mi venite incontro portarci stracci straccia che mi tira non è che la cosa lei la cosa fa lei pagherà cosa quando Dove? Prima o poi Guardi, 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 guardi Via Adesso non va bene Adesso devo andare in corso di qua perché se no muoio De qua De qua De qua No! Ho visto proprio volare Ho sbagliato il tempo No, no, no Forza Ma perché mettono i cerchi? Sono rimatta Ma chi è sto cretino C'è un cretino Ma lei è già arrivato, Dev? Allora ci siamo Sei già arrivato? Io sì E com'è che non vi vedo? Non vede la X Io sono arrivata Ah, ok, perché è andata fuori Cioè, quindi l'unica che è arrivata sono io No, vabbè Cioè, ma poi si deve Siamo dodicesi Cioè, dodicesimi Che vergogna È perché abbiamo un compagno di squadra Che non è capace Sì, e voi dove state? Dove state voi? Ma io boh veramente Ma mi scusi, ma mi lasci Non ci sono parole Io sono arrivata Ledo a vincere per tutti Eh, infatti ho vinto per tutti Mi lasci distribuire le colpe Oh, sono vicino al dottor C'è anche Rose Ne aria, Sagara, ne aria No, dobbiamo cambiare No, dobbiamo cambiare per forza Ma poi perché li mettono i checkpoint? Se poi una volta che cadi Mica rispondi Ma io boh Ma con chi sto giocando? Allora Selezioniamo Lo spettacolo di squadra Stavo finta di niente Mi sembra il minimo Io ho dato una spinta voi Tutte due, niente Non c'è una panno Non c'è una panno E lei Lei proprio non collabora No, voi non collaborate Io ho dato una spinta Lei spinge Lei tira, spinge Io spingo, spingo per andare avanti Lei rimane indietro E poi chiede Chiede Lei fa cose che Fanno perdere tempo Io? Ecco Ecco E cala Questo voi Mamma mia Vabbè Però qua Almeno non moriamo subito Quindi Dice lei No, nel senso Lei dove arriva qui? Ci dica Ai tori Io sto Ma questo non ci stanno i tori qua No, questo non è quello dei tori Purtroppo Alla fine, o no? No, no Questo è quello che devi saltare come un pazzo Io non ce la faccio mai Ah, è vero Non ci sono i tori qua Magari fosse quello che è i tori Quindi fa boing, boing, boing Le top 10 Te saluto, Cori Già stiamo fuori Già stiamo fuori Quando lei dice così Può essere Può essere che invece vinciamo Ma un po' di positività No 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 Sì, ma levatevi Ma che rompiballe Ma vaffan cuore La vedo saltare come un grillo Hai visto? Hai visto? Vaffan cuore Ma perché io ho tutti questi tori e vi ho spiegato? Oh, mi sono aggrappato proprio con la sporchetta No No, ce l'ho quasi Che culo No E ci ha petto Ma perché? Perché? Ecco Ok Io mi sono qualificato Però chi parlava all'inizio No No Ma perché sceglie quel percorso? Eh Aspetta, aspetta Dai, dai Ma vaffan cuore, va Ci servono punteggi No 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 Ma dai Ma dai Senta, però a destra Ma a destra Ma a destra Ma a destra Ma per il frutto della cuffia Non credo che sia servito molto però L'abbiamo fatta Sì Un'efficazione raggiunta Ma sì Dai Per merito di Nel compagno Eh, ne è che strano No, dico Eh Per Lara Per Lara Che si manda tanto Io Mi mando Ma di che? Prima Ero arrivata prima Cioè voi Stavate indietro E non siete proprio arrivati Posso dire Stavolta Len ci ha salvato le ciapette Meno male Meno male Grande Len Questo è mio Questo lo so fare Eh, però se ce ne stanno di più di tori No, fa niente Io so dove mettermi Voi seguidemi Sono rimasti tori questi Seguidemi Attaccatemi al guardrail Attaccatemi Vedi, ce ne sono tre Eh, ma se va attaccato al guardrail Un attimo Fate come me Camminate, camminate Camminate al guardrail Come me Lo so la fa Se no mi butta fuori No, mi ha buttato fuori Ma mettetevi come me L'ho detto Eh, lo faccio Ma questo sì Arrivano e ti buttano giù Non so Non so come fa lei Eh, guardi Guardi come faccio Mi guardi Eh, io ho fatto la stessa cosa Ma mi ha buttato 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 Non funziona Non funziona Sempre Vediamo il nostro compagno Cosa fa Anche se non credo Che possa salvarci Dai mesni Mesni boomer No, siamo noni Cioè, seppure siamo noni Che fanno Ah, si butta sui cosi Vedi Eh sì No Niente Siamo fuori È andato Il punteggio della squadra È 119 Perfetto Ok Povero boomer Eh, vabbè Si ha provato con tutte le sue forze Vabbè, chi gioca con noi Si sa che va a finire così Ma noi vinciamo Stiamo facendo anche Noi vinciamo quando non registriamo C'è poco da fare Eh Io farei una solitaria Sì, esatto Che così almeno completiamo Il giro Allora Ok Damose Damose Spettacolo in solitaria Questa è l'ultima gara? Sì Praticamente poi non c'è altro Oh, sì Comunque questo colore Sono proprio un delfino Eh Sì Sì Un delfino pirata Al background Free devil C'è anche la pinna Quindi Ah, ma quella era l'orca Oh, no Sì Assassina Ah, sì No, dai Ma perché Ma perché No, ancora Mi vogliono male Va bene Va bene Stavolta concentrazione Eh, ci impegniamo Ci impegniamo No, io non mi impegno Proprio per niente Arriva la top Top No, siamo in solitaria Ah, siamo in solitaria Giusto Se non passi Corri altra guarda Vediamo chi vedrà Chi No, io non mi impegno Oh, lì Sono arrivato in un punto Che non ci ero mai andato Io sto in religioso silenzio Così si concentra Esatto Brava Eh, questo qua mi ha Sei un cretino Sei un cretino Vabbè Allora Samurai Per favore No 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 Non ripeteremo mai Ma che ci mette davanti Direi Oh Peseguo, eh Teste di birra Che sono nulla Ancora adesso mi sono accorto Oh No Aguanta Sono arrivata Sono arrivata Sì Dai Elen Dai Il religioso silenzio In silenzio No No Ma come ho fatto prima Non me lo spiegherò mai Ah, ok Ci sono Ci sono Dai, dai Quattro posti Dai Elen Gliela puoi fare L'ultimo No Porca muzza Sospese in aria Vabbè Guardo voi I sogni di vittoria Sospesi Eh Sono Sono scemati Nelle nuvole Che scemi Che brutta caduta Che ho fatto E ora inizia Ma di quello I muri Perché Peggio dei muri Questo No Vabbè Cioè Io questo Ancora non l'ho capito Sigo a me Sigo a me Sigo a me Adesso Prendo appunti Su quali sono I Su quali sono le porte Ma non credo nemmeno Che so sempre Le stesse Le porte Eh sì In teoria sì Se te le ricordi Dici Dici Facciamo Andare All'altro Dove vanno Gli altri Qua All'altro Sigo a me No Al primo A prima A sinistra Ok Prima A sinistra Io seguo Ezio No Orca Fasciadissima Il terzo A destra Niente Il quarto A destra Niente Il quinto A destra Ok Il quinto A destra Dove vanno Gli altri Quinto A destra Io vado a destra Il primo Il primo a destra Sì Ci sono Ok Prima a destra Ok A sinistra A sinistra Secondo me Sì sì È giusto Prima a destra O è a destra Poi Che famo Questo Famo questo Secondo A sinistra Dove sei andata Dove c'è l'asta Secondo a sinistra Secondo a sinistra È giusto No è giusto Secondo a sinistra Secondo a sinistra Poi Ok Ci sono Secondo a destra Sì Secondo a destra È giusto E sono arrivato Dai Oh ok Secondo a destra Secondo a destra No È buono Allora il terzo a destra No No Ah ecco Sono ritornato nei palloni Secondo No no Secondo 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 a destra Questo Questo vai No Ok Allora il terzo Guarda un po' Oh il terzo Terzo a destra Dai Aspettate Prima io Sì È il primo a destra Allora Il primo a destra Eh Non ho guardato Ma come Ma che ne so È il primo Dove sei andato Sono fuori Come sei fuori Sopra la sua linea del traguardo Era il primo Era il primo a destra Era il primo a destra Dovevo dire il primo dal basso Ma che ne so Io pensavo che era il secondo a destra Era il primo a destra Era il primo a destra Però Peccato Ah di nuovo Ancora questo Provi a stare nel centro Stavolta No 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 Mi sposto Ma rimango sul guardrail Le mani lì Ok vediamo Come vada Oppure Si sacrifichi Per noi No Tanto voi state guardando Questa tecnica è fantastica Soprattutto guardarla Sì Ma che bello Attenzione Le mani Gredino Così frega i tori Occhio No Ma non frega loro Ti ha buttato proprio Peccato Quindi lei crede ancora nella sua tecnica Sì 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 Lo sta ferma Lo sta ferma Ma si può uscire oppure se Non scare il tempo No perché se no Non prendi i punti Non prendi i punti Bisogna aspettare la fine della gara Ah questo qua Parrons Parrons Io sto vedendo Ghost Ghost Ah ok Questo qua lungo Ma perché si mettono tutti al centro? E anch'io Lo facevo lì E riuscivo Perché non fa in tempo a buttarti dall'altra parte Vabbè Quindi usciamo Sì Vediamo come si è messo Pochi punti Pochi Pochi E adesso? E adesso niente Se vogliamo fare l'ultima E se no possiamo anche chiudere qui Direi Sempre in solitaria? No Facciamo a squadre Ma usciamo subito Se non me è a squadre Appunto Appunto Se no Finiamo qua Che va benissimo Ma va benissimo cosa? Eh? Ma va benissimo cosa che è stata una cosa dei pluri Ma va benissimo Sesso È andata così È andata così Ormai sanno cosa si devono aspettare Da queste partite Appunto Facciamo a squadre L'ultima e ci L'ultima E ci congediamo Ci congediamo Sì perché tanto Voglio dire E quando non va non va Purtroppo a registrare non va L'abbiamo capito Però già che non si è bloccato il gioco Eh Quella già è una cosa positiva Adesso non è che lo deve dire però all'ultimo Eh fatti Sì se no poi si blocca Eh dai Ecco questo è girandola Qui arriviamo tutti Qui arriviamo proprio tutti sempre A meno che A meno che A meno che Non ci metti tu lo zampino Io Sì perché tu trattieni Io Ma quando mai Quando mai Io prendo il ciccicollo È troppo vicino a me È troppo vicino a me Ti ho messo anche l'ornitorinco Eh sì C'abbiamo l'ornitorinco In squadra Lei non passi avanti Che non se lo merita Come Ecco Ma Che maledetti Che sia Voi me la dirate veramente Eh ma go go Cioè ha detto Lei non passi E non E E sono andata indietro Cioè Che lì È stata proprio falciata via No No Eh come la cattiveria La cattiveria No basta 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 No Prova al centro Io ci aprovo No Eh io ci ho provato due volte Ho dovuto rinunciare Ok Non mi trattenete Perché mi arrabbia tantissimo Io so io vado eh Anch'io Ma c'è Dev Dai Dev Se volete Ficano i top Dieci Siamo undicesimi Lo dico Puoi Puoi salvarci solo tu No Anche il nostro compagno Dai 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 Undicesimi Decimi Dai Decimi Potremmo 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 farcela Matteo Tornate indietro Bravo bravo Cadete 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 Matteo Depe Non arrivare No 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 Non arrivate Ce la facciamo Ce la facciamo Non arrivate Per favore No Non vi qualificate Bravo Cadi Ah Si è mosso Già lo sto a segnare Aiuto Ok Dai Per un punticino Dai Qualificazione Raggiunta Vediamo Il secondo È quello Dei salti E addio Comunque il nostro compagno Lo vedo Cagliarco Si si Ci sta Ci sta Ma che No ma basta Ma perché è sempre questa Non è possibile Tre volte Uso la mia tecnica Al centro A girare Con una scema Eh ma se Lo sentivo C'è C'è Una bella carica Per andare Fuori Però magari Prende gli altri Invece che prendere me Io uso la tecnica Di Lara No No Ma ci ne ho Solo però Eh si No 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 Quindi se può fa Se può fa Se può fa Si se si concentra Qui da voi Non viene Ovviamente Nostro compagno Non so Un po No Che culo Che cuore Non mi tenga Non mi tenga Cocodrillo La tenga Cocodrillo La tenga Mi ha preso Il rinoceronte Eh no Siamo in squadra È Dobbiamo passare Tutti Forza Forza Squalo Lasciami No A me no No C'ho caduto No No È a squadra Meno male Top 5 Sì Meno male Qualificazione Aggiunta Ho resistito Fino adesso L'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Che cuore Che cuore Mo trampolini salterini No Non li chiami La porta La porta È aperto Acchiappa Pingu Il picciono Il picciono Il picciono L'uccello Acchiappa L'uccello L'uccello Dai Non dite che sì Siamo in fascia protetta Sì Questo è diverso dal solito Acchiappa Pingu Pingu Prendete l'uccello E tenetelo stretto Pingu Pingu Così parlano Esatto Dove sta l'uccello Eccola 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 Prendetelo Prendetelo No è mio 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 Io proprio no È mio Dammelo Ma è il blu Ma dai Testa di pira Sono un fagiolo No no il fagiolo Il blu ce l'ha Corriamo Noi siamo i rossi Il blu Eh sì infatti Eccolo 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 Lasciate il striccello Ma l'abbiamo ammocchiata Con il striccello È un solo poverino È uno solo Oh c'è un nostro compagno No no Chi ce l'ha adesso Lasciatelo C'è so che mi ha sempre Io me do Sapete che vi dico Io me do Io me do Date il minuccio Che cosa ci vuole Ce l'ho io L'uccello No No Te l'ho tolto Rolto Lascia l'uccello Eccolo Un altro uccello Ah ce ne sono altri Eccolo 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 Prendilo 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 Arrivo in vostro soccorso Aiuto No mi lasci Mi lasci Mi lasci Noi l'ho preso Se ci ossagoliamo pure tra noi È finita Vai L'ha preso il nostro compagno Vai 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 Amongas Vai Dipendiamo Dipendiamolo Attieni questo No Che cazzo fa Vai con l'uccello Lascia l'uccello È mio Datemi l'uccello Dove sta Lo voglio Lo voglio Qua 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 No Lasciate Eccolo l'altro uccellino È mio Dammelo Dammelo Mamma mia Ma guarda quegli uccelli che sono rimasti lì Ho trattenuto uno blu della squadra blu che ce l'aveva l'uccello Ce l'aveva E chi non ce l'aveva l'uccello Ce l'avevamo un po' tutti Ho trattenuto Vabbè Attenzione Attenzione Questo è interessante Questa prova è interessante Allora qui io consiglio di No io qui io consiglio di Seguire il rotatore E cioè Andare avanti Oppure stare fermi Ah bello Tanto qua c'è l'aria Che te Che te spinge Capito? Ma guardate Siamo in fila No ma che fate? Ma si è anche impegnata Si è anche impegnata di brutto Trist No Mamma mia Botta Non mi affiappate No 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 Mi sono caduto Porca puttana No no Avevo resistito così tanto Le top 2 No Cadete Spingi qualcuno Spinga Spinga Lara spinga Quindi se usciamo è colpa vostra E certo Mi sembra logico Ma io Cosa si aspettava Lei non ha dato così Rimango sempre io Ahia Oh terzi 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 Spingete qualcuno Guarda Come Gomito a gomito Con questo qua Oh croccia Facciamo Possibile Se mi trattiene questo Sono No 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 Lei è un culo Ti visto Ti visto Ma non è Non è culo È bravura È bravura Guardi È sportiveggiante È sportiveggiante Ma guardi Però non me lo ricordo È così difficile Oh 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 No Vabbè però È durata tantissimo Ma ci qualifichiamo Wow No No Non penso proprio Beh Potremmo No 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 Siamo No Perché ormai Questo qua Ha resistito troppo Stinfame Cosè Def Ma poi che nome Ma che skin è Soprattutto Ma vedi Un covomero Un covomero Tutte queste bastonate E non cade neanche una volta Io non lo so Qui c'è sotto qualcosa Segnaliamo 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 per Volo antigravità Usa il bunny hopping Salta più in alto E più E più in lungo Volo finito Ah Finalmente Ah No niente è andato Non l'ho Non l'ho segnato Se è salvato Io sì Vabbè Comunque Quest'ultima è andata Anche abbastanza bene Sì dai Qualcosa abbiamo fatto Dai Anche cento stelline Ti visto 150 pezzi di corruzzi Ancora non bastano Vero? Quanto ne devo prendere? Va bene Siamo andati avanti Io mi raccolgo i kudos E possiamo anche chiudere qui Anzi tre corone Tre corone? No per una non sblocco I fighissimi pantaloncini Ora accolgo i kudos Ma che differenza c'è tra questo e questo? Sono uguali Ah Adesso ho gli occhi più neri Albero invernale Il caschetto No il caschetto mi leva Non posso portare cose che mi levano Eh sì Niente a posto così Oh A posto Prego Noi siamo pronti per chiudere Ok chiudiamo È stata un Sono stati dei diventi Veramente sportiveggianti E siamo arrivati più avanti Solo sempre grazie a me E niente E basta Chiudo con la mia barba da vichingo Quindi la prossima volta La prossima volta la vedremo così Ma certo Ma certo Perché è stato un acquisto dispendioso Va bene Diciamo che è andata come al solito Sì Però il divertimento raggiungerà sempre il primo posto Sì assolutamente assolutamente Finché ci divertiamo possiamo anche perdere random Esatto Quindi vi invito a seguire anche i punti di vista di Len e Lara sui loro canali Linkerò i video a fine video Io farò oltretanto E niente ci vediamo a una prossima failata Esatto Ciao a tutti Ciao Ciao ciao